e per cui anche in questo municidio prendiamo degli impegni con i cittadini che riguardano alcuni punti importanti tra cui alle prossime elezioni quello di costituire un assessorato alla legalità, il bilancio e la trasparenza Allora, chiamo adesso qui sul Ponce Più di dieci anni, quindi ci conosciamo con molti di voi e anche la conoscenza col Movimento 5 Stelle è risalente nel senso che storicamente io mi sono prestato a fare l'autenticatore a molte proposte di legge quando il Movimento 5 Stelle non esisteva qui, esistevano, mi ricordo, gli amici di Beppe Grillo e in tutto questo abbiamo attraversato questa fase che si è sviluppata prima con le soppressioni giudiziarie poi con degli aggiustamenti Quello che abbiamo vissuto a Ostia è una cosa abbastanza anomala con l'ufficio che era rappresentato da me perché nel 2012 ne è stata prevista la soppressione dal territorio e nel 2014 il reinsediamento Quello che è successo in mezzo è una specie di romanzo perché dire che si è lavorato in situazioni disagiate è poco Quello che è interessante è la domanda se c'entra qualcosa la desertificazione del territorio, le istituzioni se ne vanno e può entrare qualche organizzazione tipo diverso io non lo so perché non mi occupo dei massimi sistemi probabilmente c'è un discorso di immagine che diamo a una collettività perché è logico che se tu fino a ieri trovi un luogo delle istituzioni con la bandera della Repubblica Italiana e il giorno dopo per venire ai discorsi che si facevano poco anzi trovi una sala giochi un'idea te la fai tutto sommato e uno spunto di riflessione viene forse a questa frase che sta scritta qua dietro cioè se in effetti il discorso delle istituzioni le istituzioni dello Stato e della mafia è un discorso di convivenza tra sostanze separate come l'acqua e olio dentro un bicchiere dove una rispinge l'altra o se piuttosto in una fase storica diversa c'è stata una commistione, un mescolamento per cui forse oggi è il momento di parlare di bonifica quello che so è che è certo, è che la legalità in sé è un metodo semplicemente un metodo, non è un valore su cui intestarsi crociate antimafia per non dire cose divisive allora se è un metodo, ben vengano le carte della legalità con i contenuti è un metodo, sviluppiamolo semplicemente, applichiamolo estensivamente a tutti i campi né più e né meno, e lì si confronta il fare su una tematica di questo tipo qui grazie allora chiamo adesso qui sul palco allora Grazie a tutti.